Anche perché io l'ho visto, l'amico nascere, l'ho visto crescere, appena ho messo le mani sulla pastiera e l'ho detto secondo me diventerà molto bravo. E' uno degli artisti italiani dell'elettronica più bravi che abbiamo in Italia e uno che se rappresenta alla grande con il live in tutta Europa e in tutto il mondo. Rex Hattori! Da questo momento si condosiglia quella storia, ma si inizia solo se mi vede dubbizzata la console e dal primo all'ultimo, tutti con le mani di Grimondo! Già storia! Gli Uo! Gli Uo! Dizio points non via! Gli Uo! Gli Uo! Gli Uo! Gli Uo! Gli Uo! E Tizio! Gli Uo! Gli Uo! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.